cattedrale basilica di savona nostra signora della colonna 14 marzo 1601 l'immagine di nostra signora della colonna dipinta a fresco su un sottile intonaco si staccò miracolosamente da una colonna della vecchia chiesa di san francesco in savona il 14 marzo 1601 preghiera vergine santa che da secoli vegli sul fedele tuo popolo savonese e di seduce comporto nelle ore più buie accogli la nostra fiduciosa preghiera costruisci nella fede le nostre famiglie salva dall'errore e dalla corruzione i nostri figli comporti deboli sofferenti richiama gli eranti al mondo la tranquillità e la pace